Quando nei momenti più neri, difficili, siamo risucchiati da un imputo, chiediamo aiuto, aiuto, e nessuno ci ascolta, ma la speranza si è accorta ed apre una nuova porta. È accolta, tutto sconvolge ogni volta ed una luce ci avvolge in una nuova danza che con voce induce ad una speranza di aiuto.